Osanna al figlio di David, osanna al Redentor. Con questo canto, con le palme in mano, il grande popolo di Israele accoglie Gesù a Gerusalemme. È un momento di festa, è un momento di grande gioia e anche Gesù vive questa gioia, ma contemporaneamente dentro il suo cuore sa bene che cosa lo aspetta e c'è anche una grande sofferenza, perché il popolo cambierà in fretta la gioia in imbettive contro Gesù, contro la sua parola, contro la sua persona e invece di accoglierlo lo rifiuterà. E questo tante volte è l'atteggiamento che abbiamo anche noi nei confronti del Signore. Non sempre siamo pronti e disponibili ad accoglierlo, ma tante volte lo rifiutiamo e ci allontaniamo da Lui. Allora che questa domenica ci aiuti a essere sempre più capaci di una vera gioia della presenza del Signore. E saper celebrare la Pasqua e vivere la Pasqua significa per noi testimoniare con Lui questa gioia ogni giorno nelle nostre famiglie. La Chiesa ci ricorda anche che è la festa un po' dei giovani. Sappiamo dare questa testimonianza ai nostri giovani e alle nuove generazioni. Buona Domenica delle Padre.